Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i prossimi di Terra ed eccoci qui per un nuovo episodio di The Elder Scrolls V, Skyrim, l'animesire edition con la forma riformata, pronta a continuare l'avventura di Enna. E allora, ragazzi, per questo episodio ho fatto tantissime cose. Prima di tutto ho trovato il laterale del drago, secondo ho scoperto come prendere le cose, ossia Darrysad, che è molto importante per noi, io voglio vendere tutto per poi comprare da lui. E soprattutto mi ha sconfitto un drago, a titolo dell'abilità dell'urlo del drago, un'abilità molto importante, che insomma ci può servire tantissimo. Se qua non ci vuole vendere, preci l'acciaio, attenzione valgono di più, lascia la terre perché ne pesa 11, questa la vendiamo, questi teniamo tutto, va bene, vestiario. Nel vestiario io rubato un po' di cosa dai soldato che ne ha morto, questa è più scassa, gli vendiamo tutto. Questo è un bel 19. Quanto pesa? 3, non è il 0. Elmo di ferro l'abbiamo messo, questo lo possiamo vendere, questo lo possiamo vendere, lui può fare i soldi però, che ce ne frega a noi. Siamo a livello 5, perfetto. Anche il scoperto è come poter, diciamo, livellare. Ho capito, finalmente. Comunque, vestiario a me ho venduto, varie, 32, per il maldello, no, osso del drago, un sacco di soldi, li lo vendiamo. Ok, prima compri, lui compri, ho capito. Prima compri una cosa, l'armini è un po' che c'ha. Danni 19, 19, cosa c'è quello che gli ho dato? Mi vende nessuno di queste cose? Ma se è un baro. Allora, spalla d'acciaio, 19, no. Vestiario. Questo ho dato io, che mi vorrebbe vendere al doppio magari, va che che è. Se ce l'ho. Belle queste manine. Non c'entra che vinta, sinceramente. Porzioni. Questo sì. Mi com'è così tutte le porzioni. Valora 35. Quanto? Ma che ho ancora più porzioni, ragazzi. Tutti i patrimoni si è freddo da questo. Tutti i patrimoni. Ma va che che è? Maledetto, libri. Le venizioni di 5, 9. Questo è un botto. Cioè, lo compri a lui non conviene. Questo è di tutto da te. Quanto è maledetto, maledetto. Varie. L'osso è dato che vale tanta fortuna, però. Non pareva una si è fregato, eh. Le scaglie. E ok. Va cagà. Contro la va cagà. Poi, per livellare. Come l'ho fatto non mi ricordo. Ecco, non livello. E io direi di mettere un po' di salute. Che mo' era più bassa, sinceramente. Apprendista. Ok, 120. Va bene così. E io posso andare da loial. Direi di questo posto di fare un altro viaggio rapido. Così quasi. Quindi mappa. Che c'è un po' di città camminare. Non mi va, sinceramente. Sì. E quindi anche quello che abbiamo lasciato in giro. C'è lì. E poi lo rivendiamo. In qualche modo di rivendere tutto. Mentre un altro venditore. Allora. Prendi questa cosa. Prendi ciotola. Guardate qui. Piatto di legno. Pento di ghisa. Boccale. Cosa che ho... Tanto fatica ho rubato. E non posso rivendere. Ok. Tutto questo qui. Andiamo ad agliarl. Che l'ho altro. Eh. È un attimo. Ma un po' di rispetto. Veramente. Oh. Io ho scoperto un drago. Insieme agli altri. Ok. Però. È un attimo. Può aspettare un altro poco. Qui c'è una cosa mia. O si sono rubate l'oro. Che non c'è nessuno. Che non c'è nessuno. Nessuno ci vede. Fatti nostri. Andiamo. Lo giro a Yarl. Gli puliamo la casa. Mentre lui. Deve sta giù. Che ci aspetta. Lavanda. Cosa c'è qui? Uh. Proprio le cinque. Vero misero. Ah Yarl. Ma che c'è? Cosa è? È con trafote cinesi? Eh. Salve. Bravo. Bravo. Quindi qui c'è lui che ci controlla in teoria. Però qui non ci deve vedere. Viene altro oro. È come la casa. Quindi gli ami mi fa un prestio. Dai ci può stare. E qui c'è un altro baule. Altro oro. Ragazzi. Sì ho capito. Sei giovane. Salve. Eh sì. Poca roba sai. Tacce io sangue di drago in faccia. Sbatto. Comunque. Ora siamo il sangue di drago. Ma che nome figo che abbiamo eh. Qui non ci è da rubare. Mio padre dice che sono troppo giovane. Eh basta. Mamma mia. Ma andate a dove è venuto il tuo. Se ti rompe la scatola. Chi passa qui. Quattro vagabondo. Ho venuto a leccare gli stivali di mio padre. Senti. Vagabondo ti sarai tu. Io. Vedo. Ho sconfitto un drago. Quando tu sconfittura un drago. Ne parleremo eh. Guarda che so. Posso vizzare questi bambini. Tante bastanti in faccia. Ci darei. Mi butto da qui. Faccio prima. Ne faccio danni. No. Eh sapessa. Amico mio. Mamma mia. C'è il drago. Sembra che io sia qui. Che amato. C'è il drago. Che è il duemità. Mi una ricompensa. Sai. Sì. Ma lei anche i soldi. Ne ci sperimentate. Deve esserci dell'altro. È successo. Qualcosa di. Strano. Quando il drago è morto. Mmm. Dunque è vero. I barba grigia ti stavano davvero evocando. Eh sapesse. Mica mia. Barba grigia. Vivono reclusi sulle alte pendici della gola del mondo. No vabbè devo aggiungerli. Si dice che il sangue di drago si è eccezionalmente dotato nel dono della voce. La capacità di concentrare la tua essenza vitale in un tukum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Beh questo è buono. Hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Wightran? Si. Quella era la voce dei barba grigia per convocarti a Rodgaralto. Addirittura. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Ma. Ma tu me parli. Ma tu me stesso è stato convocato. Quando era ancora Talos di Atmora. Rodgar. Calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere non vido in lui i segni di quello che chiamano sangue di drago. Cosa c'entrano il sangue di drago? Sciocchezze nord. Brutto e ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sagre. Oioioioi. Resolente alla fondazione del primo impero. Il primo impero. Non essere così duro con Avenici. Senza offesa, ovviamente. Eh, offendi. Solo che cosa vogliono questi barba grigia da lui? Insegniamo il potere. Quelli sono affari dei barba grigia, non nostri. Bravo. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago ha risvegliato qualcosa in te. E i barba grigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Assolutamente. Sarai meglio a salire immediatamente a Rod Garalto. Non si può rifiutare una convocazione dei barba grigia. Eh, esagerato. Sì, ma i soldi? È lontano d'acqua, mi sa. E chiedo se i barba grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Eh, non importa. Va a Rod Garalto. Impara ciò che i barba grigia hanno da insegnare. Hai reso un grande servigio a me e alla mia città, sangue di drago. Uiii. In virtù del mio potere, quale Jarl, ti nomino Tein di Wightran. È la più grande onorificenza che posso concedere. Uh, il Tein è secondo in Tria. Il mio libro è come uscarlo personale. È quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Wow. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Tein della nostra città, sangue di drago. Eh, sì. Se voglio, il Tein è appunto il secondo in grado, quindi è un grande onore. Però io devo sapere quant'ora avrebbe ora, scusate. Oggi, andiamo un po'. Ora 1.500, quindi ancora c'è il fuoco del tempo. E che mi ha dato come arma? Che stavo prima, nel nord. Ascia di Wightran. Valore a 132. Urga. Può riempire una gemellana se bestiamo muro dentro i secondi. Buonabilità, però fa pochissimo peccato. Davvero poco. Ma vabbè, ragazzi, dobbiamo andare in questo posto qui. Vediamo un po' dove sta. No, esci... Ma poi nel mondo, ecco. Dove devo andare? I gradini, invece... Dove cavolo devo andare? No, vabbè. Posso fare un viaggio rapido, vi prego. Ok, ragazzi, noi ci vedremo ovviamente dopo. Questo viaggio immenso verso i Baba Grigia, maledette. Che non mi chiamano con una macchina o un vaporetto. Non lo so, un qualcosa. Carla mi ha nominato tuo Ouscarlo. Sì. Ah, andiamo un po'... Che cos'è? Ok. Andiamo un po' che fa Ouscarlo. Oh, che dolce. Non so, può cucciare rosa. Intanto, vede che è bello questa arma tua che... Ancora più risalta il suo... Bacio con l'urlo. Vieni, mi serve il tuo aiuto. Figata, dai. Quindi, tenne noi posiamo in comando, però... È un'eroa, diciamo. È molto importante. E ci sta. E noi andiamo, ragazzi, e ci vediamo. E noi andiamo. Ok, mi sa che fa una cosa che... Ho rubato il cavallo il cavallo, ma poi l'ho pagato. E... E qui mi sa che devo andare. Io ho pagato? Salta? Niente, non... Non so come fa passare a venire con me. Ciao, cavallino. È come torna a casa. Io allora non so... Come possa... Mi curo. Per il cavallo va niente. Mi ha dato anche l'assassino. Vediamo un po' se si è cavato tutto. Ho i destrieri più veloci di tutti. Vedisi. Ne ho uno già sellato. Se hai il demà. Mille pezzi d'oro. Eh... Eh sì, caro amico mio. Io trovo rubo il cavallo su punto. Mille pezzi d'oro è una rapina. Scusate, c'è... Chi è? Oh. Oh, oh. Ma chi è? Ma qual è il metto? Attacca la mia... La mia scuola. Ma mori, va. Vuoi morire? Bravo, hai capito. Ancora? E muore allora. Cosa ne dici di morire? Io ce l'ho provato, ragazzi. Ma qui sono tutti voluti. Dei pazzi. Dei pazzi. Però che se non cazzo lei non viene con me a cavallo. Un peccato. Che lei può venire con me? Allora. Spada acciaio. Lei quanto ha? Ti do qualcosa a lei. Lei ha qualcosa? Non è un migliore. Ascia... Fece l'acciaio. Spada imperiale. Te la dote, dai. Perfetto. No, quindi io sollevo a cavallo. E chi si è visto? Si è visto, ragazzi. Mi spero di rubire il cavallo. Ma mille denari? C'è mille oro? Mi sa un po'... Salve. E allora, è su. Vai cavallo. Come si corre? Con R2 no. Come corre R1? Beh, ragazzi. Dopo questa bella commercializzazione. Noi ci vediamo dopo. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo. La d Grazie. 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 Oddio. Ma secondo anche moltissimi posti anche a essere differenti ma veramente il gioco aventa delle creature incredibili come fantasy a un livello a molto alto sarei dire. Però certo di spostarsi è davvero una gran rottura di scatole mappa gigante open world ovviamente è questo. Però noi siamo arrivati a Iverstad. Perfetto. Nuova scoperta. Io scenderei come quello rubato. Tu stati qui bello. Che ormai ruba non c'è più che ormai è mio. Rubato mi sembra un po' inutile l'ora. Dove è il nostro obiettivo? Da questa parte. Vediamo un po' di raggiungere questo punto. Vediamo un po'. Salve. Ce l'abbiamo fatta. Non è nemmeno che c'è ancora da camminare. Mi sono arrivato scusate. E appunto sono arrivato. Ah è là sotto. E allora ragazzi. Cioè è la so per non finire. Ho capito. Lasciato anche delle urla. Comunque diremo che per adesso veniamo qui il riso di oggi. Sarà un po' breve lo ammetto. Ma davvero. Tanto da fare oggi per me è fuori dalla vita del gameplay. Eh. I viaggi qui sono molto lunghi. Vediamo un po' adesso verso di pane. Questo per boccale. Potremmo servire. E non ci vediamo un po' di sodio. Quindi vi lasciate un like. A commentare. E di la vostra. Se non l'avete fatto. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. C'è le notifiche dei video che usciranno. E vi ricordatevi su canale viola. Per fare live. E su vari social. Come facebook. Instagram. E tiktok. Così per stare a più sul lavoro. E con dei altri contenuti multimediali. Che caricherò. Da questo ci vediamo un po' di sodio. Dal vostro Miniterri. Passo a chiudo.